Comunicato stampa obiettivo ADICAF del 1 ottobre 2016 C'è un silenzio di tomba vergognoso da parte della regione Marche in merito al grave e vitale problema dell'assistenza domiciliare indiretta. Io veramente non so più che dire. Sto combattendo contro i muri di gomma e i mulini a vento. Vi dovete vergognare. Vi dico che vivere è dignitoso, sopravvivere no.